Partiamo dopo pranzo, torniamo all'area design per un panel dedicato al narrative design, che scopriremo un po' meglio insieme ai nostri ospiti che cos'è, chi è il narrative designer, che sarà un po' la domanda del secolo, perché non è facile, è un tema intricato, molto ricco, e tanto loro mi hanno già detto in riguardo lì perché sono seduti tra i vicini, che sono molto logorroici, quindi bisogna fare anche attenzione a... Si danno la colpa a vicenda. No, io inizierei subito invitandoli sul palco e poi un po' li presentiamo, capiamo a cosa giocano, e partirei da Andrea Babic, che è narrative director di Ubisoft Milan. Applauso. Sa, sa. Sa. Ciao. Facciamo, mettiamo tutti e tre e poi vediamo un po' di presentarvi. Fabio Pagetti, creative director di Reply Game Studios. E infine Daniele Azzara, chief creative officer di 101 Games. Benvenuti su questo palco, e allora partiamo da Andrea, vediamo se passa anche la tua carta d'identità, eccoti qua, mentre giochi in sala giochi. Sì. A Donkey, cosa stavi giocando? Donkey Kong. Donkey Kong. Finto. Tutto torna però, lo hai incollato tu Donkey Kong? No, no, siamo arrivati in un posto a Los Angeles e c'è Donkey Kong. Ah, ecco. Ma dovete sapere che io Andrea lo conosco perché ha fatto un libro molto interessante su Super Mario, i mondi di Super Mario, quindi è Nintendaro, sei Nintendaro, si può dire che sei Nintendaro? Ma io, sì. No, non lo so se si può dire in pubblico. Sono tuttaro però, per lavoro tendenzialmente Nintendaro, sei. Va bene. Il gioco preferito, vedo Wonder Boy Monsterland, versione arcade. Mi ha colpito molto che tu hai precisato versione arcade. Sì, intanto è un gioco Sega, proprio di Nintendo, subito l'opposto. Sì, perché è un gioco narrativamente molto interessante perché condensa il viaggio dell'eroe archetipico in 40 minuti. Tu sei in sala giochi, quindi doveva durare poco la partita. Quindi può essere utilizzato a scuola per insegnare in 40 minuti il viaggio dell'eroe. Assolutamente, anche le basi del arcade GDR da un punto di vista sia ludico che narrativo. Insomma, lo consiglio, è un gioco poco conosciuto rispetto ai vari Donkey Kong, Mario, Zelda, eccetera, ma potentissimo, potentissimo. Bene, e Mario però è Mario più Rabbids perché penso che tu hai lavorato anche a Giacomo Vesta, il nuovo Mario. Sì, lui ha lavorato anche a Mario Rabbids, Parks of Hope, ma per amarlo fino in fondo aspetto che esca. Vediamo, prima, Kingdom Battle so che l'ho amato, so che i giocatori l'hanno amato. Soprattutto, quindi quello è che ti rende poi, vabbè, orgoglioso. Ti chiedo subito, prima di passare anche ai tuoi colleghi, da dove vieni? Nel senso, non geograficamente, da dove vieni come professionista? Nel senso, cosa ti ha portato in Ubisoft? Mi ha portato in Ubisoft facendola brevissima, che ero giornalista di videogiochi, lavoravo soprattutto per la rivista ufficiale Nintendo, e niente, da lì mi sono proposto, riproposto, proposto un miliardo di volte e finché alla fine ho detto, va bene, proviamo. Quindi ti sei formato un po' sul campo giocando, cioè ti sei sonato didattico? Sì, tendenzialmente sì. Mi sono sempre stato appassionato di game designer e ho cominciato come game designer. Ok. Bene, passiamo alla seconda slide, passiamo al secondo ospite, a Fabio. Non posso che essere d'accordo sul gioco preferito, è un capolavoro. Shadow of the Colossus, avete giocato a Shadow of the Colossus? Se non l'avete fatto, fatelo, perché è un gioco importantissimo. Vuoi dirci un po' perché Shadow of the Colossus e poi perché Long Wolf? Allora, secondo il mio modesto parere, Shadow of the Colossus per me è il gioco perfetto. Si sente? Adesso si sente. Per me Shadow of the Colossus è il gioco perfetto. C'è un applauso, sta partendo già l'applauso. Grazie. Io comincio già bene. Sì, per me è sotto tutti gli aspetti dal punto di vista di gameplay, perché ha portato qualcosa di nuovo. Parliamo della versione PlayStation 2, poi c'è stato il remake, chiaramente. Sia dal punto di vista narrativo, perché la storia, la narrativa è per più di metà criptica, ma allo stesso tempo permette al giocatore di capire cosa succede. Le musiche sono qualcosa di spettacolare, quando incontri i colossi è un'emozione continua. Non si perde in cose utili, è solo l'idea di gameplay portata in videogioco. Per me è il gioco perfetto. Poi, margini di miglioramento dove volete, ma per me è l'alchimia perfetta per un videogioco. E Long Wolf si è legato... Non è il tuo primo progetto, immagino non sia il tuo primo progetto. No, allora, assolutamente Long Wolf è il mio primo progetto da solista, tra virgolette, quindi con il team di Milano, il mio primo gioco in Reply. È il mio primo gioco da direttore creativo, e nel caso di Long Wolf anche da game designer, fatto in Reply. Quindi chiaramente io nasco in Ubisoft nel 99, avendo fatto il pixel artist, il 3D artist, ho fatto anche l'art director in Ubisoft, poi mi sono spostato da altre parti, però diciamo è il mio primo gioco dove ci ho messo un po' la firma insieme ai miei colleghi. Grazie. Anna, ti ho chiesto giustamente tu da dove vieni in termini di professionali, cioè tu ti sei formato... Allora, io ho avuto la fortuna nel 99 di entrare in Ubisoft come 2D artist, e quindi tutta la mia esperienza, tutta la scuola l'ho fatta in Ubisoft Milano, che per me è stato... L'hai fatta lavorando. Esatto, perché all'epoca non c'erano corsi, non c'era niente, ho lavorato in Ubisoft Milano per otto anni, siamo passati dal Game Boy Color fino ad arrivare all'ultimo gioco che ho fatto che era Splinter Cell Double Agent, quindi le ho viste tutte, anche lavorativamente parlando in missione in Canada dove facevano Assassin's Creed e Prince of Persia, i primi due titoli, Parigi, passando per anni sì, quindi grandissima scuola, senza di quella non avrei potuto fare quello che faccio oggi, assolutamente. Grazie. Ultima slide, l'ultima carta d'identità. Qualsiasi cosa faccia Kojima o Cage. Ok. Quindi... Che è molto vasto come concetto. È molto da te questo. E The Suicide of Rachel Foster. Vederci un po' perché hai scelto, a parte perché ami Kojima, perché ami Cage e... Che è una domanda? Perché ami Kojima? Quanto tempo abbia? Due minuti. A Kojima, potrei parlarne ora, in realtà a Kojima perché secondo me nei videogiochi ci sono tutti e poi c'è Kojima. È una separazione abbastanza netta. Quello che Kojima ha fatto ai videogiochi nessun altro credo abbia, insomma l'abbia raggiunto come risultato. Lui ha creato nuove estetiche, nuovi linguaggi. È stato sempre rivoluzionario, ha tentato sempre di esserlo anche sull'identità stessa del videogioco nella sua rappresentazione presso gli utenti. Ha giocato con gli utenti, ha giocato con il marketing, ha giocato con le persone. Lui ha fatto game design, adesso si direbbe molto attualmente ha gamificato, se è ancora vivo, ma ha gamificato qualsiasi aspetto della sua identità come autore nei progetti che ha fatto. Per cui si potrebbe andare dentro all'infinito, ma credo che chiunque ami videogiochi, sia che apprezzi o no le lungaggini o gli errori, diciamo, dei giochi stessi di Kojima, in realtà non possa non riconoscergli questo tratto autoriale assolutamente geniale, legato soprattutto a come raccontare le storie attraverso il gameplay, anche attraverso infiniti, insopportabili. Ma infatti cosa rispondereste a coloro che dicono che doveva fare il regista ha sbagliato medium? Che non capiscono i videogiochi. Va bene. No, infatti una domanda, io riporto delle domande che girano. No, no, ma l'ho litigato tante volte con i registi al riguardo, semplicemente non capiscono il mezzo e quindi semplificano, che è un po' un problema nei tempi moderni. Cage, perché Cage ha avuto il coraggio di creare un nuovo oggetto che per carità è sempre alleggiato nell'aria, il film interattivo, lui l'ha portato ad un livello successivo, l'ha evoluto di volta in volta e soprattutto è riuscito a farsi dare barche di denaro per fare progetti incredibili che poi hanno raggiunto tante persone, lui sfrutta in maniera così radicale e dopo oltre vent'anni, venti rotti anni da Omicron in poi, adesso sta lavorando su Star Wars, voglio dire, per cui gli hanno ormai riconosciuto una peculiarità. Ecco, forse loro sono simili perché sono veramente mosche bianche, si muovono in un contesto che è assolutamente loro, nel bene e nel male, però effettivamente sono rivoluzionari. Io mi sono sempre sentito stupido di fronte a Kojima e questo mi ha sempre esaltato profondamente. The Suicide of Rachel Foster è un, io stavo facendo dei calcoli con i ragazzi l'altro giorno, io ho lavorato alla fine dei conti a circa 50 giochi differenti nel corso della mia vita, un po' di tutti i tipi, perché ho selezionato Rachel, un po' perché è recente e un po' perché è stato forse il primo gioco in cui ho potuto fare esattamente quello che volevo dal punto di vista narrativo, autoriale. Siamo arrivati esattamente dove volevamo arrivare, questa è una grandissima soddisfazione, al di là dei risultati. Ti sei formato sul campo o hai fatto dei percorsi di studi specifici? Io ho cominciato nel 95 con i giochi e assolutamente non pagato, sfruttato e a fare cose che non capivo perché venivo dal gioco di ruolo. Io lavoravo nei giochi di ruolo pen in paper, ho lavorato nell'espansione di Cyberpunk all'epoca, ho lavorato per Martelli da Guerra all'epoca, ho lavorato con TSR, poi Wizards of the Coast, ero un piccolo autore, però facevo giochi di ruolo, mi piaceva questo. E sono stato catapultato in un mondo che amavo i videogiochi, li giocavo, non capivo assolutamente niente. Quindi ho fatto una cametta orribile, che se la raccontassi oggi nessuno ci crederebbe. E ho capito che era quella la mia strada, per cui poi ho fatto un percorso abbastanza articolato. In gran parte la mia esperienza è da consulente per un'azienda che si chiama McPherson & Associates, è un'azienda americana che fa consulenze worldwide su tanti oggetti differenti e nel 2008 ha aperto la parte di videogiochi e per circa dieci anni ha alimentato in maniera spinta parecchi grossi gruppi, per cui ho lavorato un po' in giro per il mondo come consulente, soprattutto sulla parte di design, creative design, creative direction e roba di questo tipo. Poi ho avuto le mie aziende, sono entrato in 101 più recentemente, abbiamo creato 101, che è il marchio che adesso sta piano piano salendo di obiettivo. Grazie, vi abbiamo un po' inquadrato. Adesso però c'è la domanda difficile, perché quando abbiamo creato questo panel, in realtà io inizialmente ho detto chiamiamolo panel sceneggiatura. No, non chiamarlo sceneggiatura, ma chiamalo narrative design. Innanzitutto vi chiedo che cos'è narrative design e perché non possiamo chiamarla sceneggiatura nel caso. e mi interessa un po' capire, quindi far capire un po' chi si segue in sala e chi si segue da casa, chi è il narrative designer e perché si chiama narrative designer e non sceneggiatore. Quindi chi vuole partire, dicete voi, non è che vi obbi, mi guardi già. Facciamo sempre... Facciamo un giretto, va bene. Non è detto che... Scusate. Non è detto che avremo la stessa risposta, anzi, però per me la questione di dire narrative designer è mettere davanti all'ascoltatore un termine ombrello che va a catturare la complessità dei diversi ruoli narrativi o dei diversi ruoli che hanno a che fare con la narrativa all'interno di uno sviluppo dei videogame. A seconda della grandezza del team, dell'ambizione del progetto, del tipo di progetto, del tipo di gioco, del tipo di narrativa che si vuole dare a un gioco, cambia un po' il pantheon di chi deve andare a comporre questo gruppo. Lo sceneggiatore, in molti frangenti, io penso alla mia esperienza in un'azienda abbastanza strutturata come Ubisoft, per quanto Ubisoft Milano sia arrivata con Mario Rabbids un po' tipo i Pirati dei Caraibi, quindi rompendo un po' di convenzioni, però comunque con una certa strutturazione, lo sceneggiatore è uno dei membri di quello che è il team narrative, è quello che alla fine della catena cerca di dare una forma stilistica, appunto di forma, ad un ragionamento narrativo che parte molto più da lontano e parte tendenzialmente da un'idea di un direttore creativo e da un'idea di game design, da un impianto di game design che dà delle regole di gioco, si dice game design is king, quindi si parte da qualcosa di molto molto giocoso, anche perché già nell'aspetto più giocoso, prima che arrivi il testo, prima che arrivino le cinematiche, prima che arrivino le forme più facilmente identificabili come narrative, in realtà la narrativa c'è già, c'è già in un'idea primigenia di struttura di gioco, di stile di gioco, di dinamica di gioco, già lì si comincia a inquadrare come e cosa si vuole dire al giocatore. Shadow of the Colossus è un esempio fantastico in questo senso, poi non mi dilungo, non è il mio gioco preferito, quindi no, però riesce a trasmetterti un'emozione ben prima che si arrivi a qualsiasi forma di dialogo, un'emozione narrativa, un'intenzione narrativa ti mette delle idee nella testa sulla storia che ti sta raccontando subito, nel modo in cui ti muovi, nel modo in cui fai fatica salendo queste creature e questo è quindi qualcosa che è intimo già del game designer stesso, di chi pensa proprio a quella che è la dinamica di gioco. Ci sono altri casi in cui invece il team narrative è talmente stretto, talmente conciso che lo sceneggiatore è anche il game designer, potrebbe essere per esempio, perché la filiera è talmente corta che va benissimo, anzi è un'altra forma, un altro modo di creare una situazione molto stimolante, non c'è, credo, ma penso tutti d'accordo, non c'è un primato del gioco piccolo, del gioco grande, del gioco AAA, del gioco indie, queste sono categorizzazioni che pertengono ad altro tipo di ragionamento, ma per quanto riguarda la piacevolezza, l'impatto di un frame narrativo, in realtà ogni tipo di grandezza può riuscire a colpire in maniera micidiale il giocatore. Quindi sì, il sceneggiatore per me in Ubisoft è addirittura il nostro sceneggiatore che è bravissimo, che si chiama Ed Kunel, poi lavora a Portland, inglese, americano, cioè noi arriviamo a lui con già una serie di informazioni funzionali su quello che deve dire, che lo vincolano in maniera violentissima, addirittura sul tono, sul momento, il grado di humor che deve avere in un certo punto della storia. Poi lui fa quello che vuole, perché giustamente i creativi sono così e devono, anzi, costantemente sfidare il mandato e da lì nasce molto spesso il momento bello, il momento memorabile, però gli diamo delle indicazioni in cui lui quasi fa il dialoghista, cioè deve veramente mettere in bella delle cose, tu devi dire questo, 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 perché qui vogliamo dare questo tipo di emozioni, qui vogliamo dire, poi lui contesta, challenge, come si dice con un'espressione agghiacciante, e da lì si arriva al punto. E dall'altra parte però arrivano gli UX designer, per esempio, che sono quelli della user experience, che dicono, ah, no, aspetta, però se il testo finisce con questa deriva, mi stai togliendo un'informazione che per me è importante da dare, si litiga ferocemente. Beh, anche il bello, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, su Teams è ancora più bello litigare, perché sei tu che gridi da soli in una stanza, è fantastico. E quindi, boh, la butto lì, però secondo me veramente può essere la figura centrale, lo sceneggiatore, perché in realtà appunto accorpa altri aspetti dello sviluppo, oppure può essere solamente una piccola particella finale di un pensiero stupendo portato avanti da un gruppo di pazzi. Fabio vuoi aggiungere qualcosa? Ma, sì, la domanda era un po' chi è il ruolo del narrative designer. Allora, per la mia esperienza personale, specialmente sull'ultimo gioco che abbiamo fatto, il narrative designer è quella figura che fa da tramite, tra normalmente chi scrive e chi fa il gioco, perché, sempre per mia esperienza, poi le cose spesso nei videogiochi non sono sempre 100% uguali per tutti. Nella mia esperienza personale ci siamo trovati spesso che, nell'impossibilità o meglio, diciamo che chi scrive e basta, normalmente in percentuale probabilmente non arriva dal mondo dei videogiochi, quindi tende a scrivere un bel libro, un bel racconto, senza un attimino normalmente avere dei limiti, perché scrivere è gratis. Se io voglio un'astronave o voglio un canotto, è gratis quando io scrivo. Non è come al cinema che se voglio fare un'astronave devo spendere milioni, no? E qui un po' la stessa cosa. Quindi serve qualcuno, come diceva giustamente Andrea, che faccia da tramite rispetto al gioco. Il gioco, sappiamo, ha un budget, ha dei tempi, ha dei contenuti. Quindi se lo scrittore scrive di un esercito di 150.000 soldati e io non posso metterlo nel gioco, stiamo sbagliando qualcosa. Quindi il narrative designer è proprio quella persona che fa da ponte tra chi scrive e chi fa il gioco. Ma allo stesso tempo ci sono casi in cui il narrative designer è anche chi fa la storia del gioco. Non per forza c'è uno scrittore all'inizio. Infatti in Sostis la storia è stata scritta da me e da Samuele, io a livello macro, proprio perché io mi occupavo di tenere sotto controllo quello che potevamo raccontare rispetto a quello che potevamo far giocare. Ok? Quindi la parte narrativa è stata scritta sul gioco e poi è stata data fuori per essere revisionata e corretta da un'autrice che normalmente si occupa di fumetti come Giudice Dredd, Catwoman, Undo Woman, per esempio, no? Quindi la maggior parte del lavoro di narrativist designer è stato fatto internamente per poterne tenere sempre il controllo al 100%. E questo in produzioni medio-piccole è assolutamente necessario. Sì, una parola. Intanto noi arriviamo da realtà che hanno strutture, come diceva Fabio, differenti, per cui abbiamo proprio una costruzione dei processi probabilmente differenti tra di noi. vorrei solo stressare il concetto. Il narrativist designer è un game designer, in linea di principio. Questo l'avevo già preannunciato e attaccherò adesso questo discorso noioso. Che però mi sento di dire perché la platea è quella degli studenti soprattutto, per cui è importante che ci capiamo su questo, essendo un game designer, il narrative designer appartiene alla categoria dei designer. Non vi fate distrarre dalle definizioni. Game designer o industrial designer o product designer o quello che volete voi, una volta che ci mettete designer, queste professioni appartengono al design generale. Per cui siamo tutti figli dei processi di design generale e il game design è una specializzazione del design generale. Nessuno nasce game designer dal niente. Se volete diventare narrative designer o se volete diventare game designer, il mio personalissimo consiglio è studiate prima il design generale. Anche una laurea di tre anni in design generale. Perché sviluppate una mentalità che poi vi consente di capire quello che vi stava dicendo Fabio, se io devo prendere uno scrittore, lo scrittore, bravo quanto volete voi, è limitato dal fatto che non conosce i principi del design generale, non ne parliamo proprio, ma neanche tutte le problematiche del game design che poi vengono applicate al prodotto, perché ogni prodotto poi ha le sue caratteristiche, i suoi limiti, le sue problematiche. Allora, quando parliamo di narrative designer parliamo di una specializzazione del game design che a sua volta è una specializzazione del design generale. È una distinzione che io vi consiglio di fare nella vostra mente il più presto possibile, perché quando si arriva a narrative design spesso il concetto è semplificato. Ah, è quel tipo che scrive le storie nei giochi. No, non è questo. È un'applicazione del game design. Motivo per il quale è così importante per noi, perlomeno, che stiamo lavorando su un semi-open world, contesto, narrazione lineare in un contesto non lineare. Ma come lo vado a spiegare a uno che non sa niente di queste cose? Infatti quello che succede è che noi abbiamo dei fantastici sceneggiatori, ma il controllo in correzione costante viene fatto dal design, perché non ci sono altre possibilità. Volevo aggiungere questo dettaglio, perché mi sembra importante mettere le cose al loro posto. Se voi siete sceneggiatori e volete scrivere potete farlo, Fabio ve l'ha appena detto. Noi prendiamo uno scrittore, bravo, che ci piace, e ci scrive una grande storia. Gli diamo dei paletti e si muove dentro quella. Se volete fare narrative designer, il percorso è un po' più articolato e richiede tempo, esperienze e studio. Sì, quindi abbiamo un livello di scrittura pura, lo scrittore che scrive una storia, e poi c'è il narrative design che deve mettere questa storia in gioco fondamentalmente, cioè deve portare questa storia all'interno di un modello. Perdonami, una cosa importante, il narrative designer normalmente è quello che integra anche i contenuti narrativi nel gioco. Quindi non è che sta sui documenti, si sporca le mani e mette la storia nel gioco, sotto forma di qui parte una cutscene, qui parte un NPC interaction, qui parte un movimento di camera, perché devo far vedere che là si è aperta una porta. Sto facendo esempi banalissimi. Quindi è un game designer, a tutti gli effetti. Infatti c'è un tema interessante che la scrittura per videogiochi ha sempre a che fare con un mondo virtuale, con un'interazione con un mondo virtuale. Quindi deve sempre, come diceva lui, c'è la cutscene che mi porta a vedere che si apre una porta. Quella è un tipo di indicazione che ha a che fare col fatto che poi tu devi interagire con quella porta. C'è sempre una reazione tra narrazione e interazione fondamentalmente quando si va a scrivere. E un'altra cosa che è interessante è che di fatto game design e narrative design sono due ruoli, se non limiti, che addirittura sovrapposti molto spesso. Quindi un po' capire bene quanto sono sovrapposti. Un po' l'avete già accennato. Però è interessante approfondire questo aspetto perché ieri abbiamo fatto un panel di game design. Oggi ci stiamo concentrando sulla scrittura, ma voi avete già anticipato di fatto che non sono due mondi separati, ma addirittura sono praticamente... No, anzi, guarda, ti aggiungo anche un layer. Almeno che uno non faccia un'avventura grafica totalmente narrativa. Il narrative designer non si interfaccia solo lato... Perché poi nel game design, per esempio, su certi giochi c'è il level design. Il level design di per sé è narrativa. Dov'è che decidono di mettere la porta? È il level design che decide dove mettere la porta. E magari rispetto a quella porta, sempre parlando con esempi stupidi, c'è collegata della narrativa. Quindi è game design, level design, ma poi il narrative design ha a che fare con tutti, ha a che fare con me, che sono creativo, ha a che fare con lead artist, perché la storia si porta dietro un carico emotivo visivo, col musico, con chi fa la musica, perché in quel momento esce quel personaggio e allora si pompa, no? Come si usa dire. Quindi il narrative designer, diciamo che è in mezzo con una costellazione attorno di cose a cui deve stare attento, si deve rapportare e tutti si devono rapportare a lui, ma come succede tra tutti i reparti. In un certo senso mi viene da dire che anche un level designer, ieri avevamo un level designer qui sul palco, anche quello è uno scrittore, in un certo senso, che sta scrivendo uno spazio. Cioè, mi piace perché vi stiamo un po' confondendo ed è interessante questo aspetto. Cioè, nel senso che è un ruolo che stiamo notando molto, molto complesso da definire e forse non serve neanche definirlo, serve semmai mostrare tutte le declinazioni che ha. Quindi mi piace questa confusione che sta nascendo. Sta scrivendo uno spazio e sta scrivendo un tempo, che è quello che in altri media può fare in maniera molto più controllata, per esempio sulla pagina lo scrittore puro, che di fatto fa quello, o il disegnatore di manga, no? Le tavole del manga sono famose perché riescono a gestire proprio il tempo in cui tu ti dovresti soffermare su diverse parti. Il level designer in questo è fondamentale. Il battle designer nel nostro gioco, per esempio, esiste una dimensione in cui ti muovi liberamente e poi entri in un combattimento che in parte, vabbè, insomma, non entro in merito, però anche il modo in cui il tenore del combattimento nel corso del gioco avviene, cioè quanto tu hai livellato, quindi in che tipo di situazione emotiva arrivi in diversi tipi di combattimento è fondamentale per determinare un'emozione per il giocatore. Quindi anche quella è totalmente narrativa. Io voglio che in questo punto del gioco tu abbia la sensazione che ti stai divertendo con i tuoi, il team di eroi si sta divertendo tra loro. Sono arrivati a un punto in cui si la spassano e si scoprono amici. E questo passa anche per il gameplay, più gameplay che c'è, ma questo è proprio base assolutamente, torna sempre al discorso di game design. Sono d'accordissimo. Voglio aggiungere qualcosa? Solo una semplificazione. Sono tutti designer, per cui lavorano tutti quanti a vari aspetti del gioco, sempre nell'ambito del design. Il designer non è decontestualizzato, non necessariamente se non altro, è decontestualizzato. Spesso, semplicemente, è una parte del team di design. Dovete immaginare queste persone che lavorano costantemente insieme. I nostri designer stanno tutti insieme. Non sono separati. Non c'è una stanzetta dove ci sono gli scrittori tipo Boris. Non è tutto questo. C'è un contesto nel quale loro operano costantemente. Come diceva sempre Fabio prima, mani sull'engine. Loro devono capire dove quella roba va. Anzi, spesso devono avere la sensibilità che io che seguo la scrittura ad alto livello non ho perché mi perdo nelle dimensioni enormi in cui stai lavorando. E loro invece hanno quella sensibilità. Spesso correggono loro le cose perché si rendono conto degli aspetti di carico emotivo sul giocatore rispetto a quello che succede in quella situazione o alle condizioni di level design. Per cui elaborano anche in base a come poi il gioco sta effettivamente emergendo. La scrittura nei giochi viene cambiata fino all'ultimo istante, possibilmente. Quindi di fatto ci state confermando che c'è un design team, narrative team che costantemente si interfaccia, si relaziona e ognuno porta avanti un percorso che però deve essere poi equilibrato rispetto a interazione, narrazione, scrittura, cutscene, quindi tutto... Lavorano sempre insieme. Per cui equilibrano day by day ogni attività che fanno. Lavorano in una sorta... In un as-a-hole. Mi chiedo una cosa che in questo caso non era nel copione ma mi ha ispirato quando prima hai citato Shadow of the Colossus e quindi... Bravo! Hai giocato facile con Shadow of the Colossus. In realtà la chiedo a tutti e tre perché interessa molto anche me. Perché negli ultimi anni si parla tantissimo di narrazione ambientale. ovvero quella narrazione che appunto non è scritta ma è affidata al mondo di gioco. Mi chiedo un po' la vostra opinione rispetto a questo concetto perché è un concetto molto interessante. Se di fatto consideriamo il fatto che ogni videogioco in sintesi altro non è che in una relazione con uno spazio virtuale in un certo senso ed è quello che forse distingue il videogioco dagli altri media il fatto che noi ci interagiamo concretamente con uno spazio un mondo virtuale cosa che non facciamo nel cinema allora la narrazione ambientale in quest'ottica può avere un valore significativo perché la narrazione si crea nel rapporto con lo spazio. Ma stai parlando della narrazione criptica dei giochi di Miyazaki? Anche se non gioco Dark Souls perché è troppo difficile però sì anche quello è un tipo anche Shadow of the Colossus appunto racconta tanto pur non raccontando e quindi è una se ci pensate è una cosa di cui si parla molto negli ultimi forse dieci anni però non è che se ne parlasse molto una volta c'era una scrittura più classica sto semplificando molto. vi chiedo un po' visto che voi vi occupate molto di scrittura nel senso con tutte le declinazioni del caso cosa ne pensate di questo nuovo modo di raccontare legato molto all'ambiente più che alla scrittura e dialoghi non so vi lancio questa parto io perché la sento particolarmente mia questa cosa ma più da giocatore che da sviluppatore allora Shadow of the Colossus ha una narrativa nel senso che il gioco è stato impostato per raccontare qualcosa ai giocatori anche di molto forte la cosa bella di Shadow of the Colossus che tu riesci a immaginare nella tua testa il villaggio da dove arrivano i ragazzi la situazione che c'era in quel villaggio anche se tu non lo vedrai mai quel villaggio nel gioco però Shadow of the Colossus nasce con idea narrativa alla base forte semplice ma forte sa dove vuole andare vuole farti piangere a un certo punto lo sa invece la narrazione criptica per esempio dei giochi di Miyazaki partendo da Demon's Souls arrivando al The Ring è una cosa che io apprezzo molto da giocatore perché soprattutto con l'età a volte non c'ho voglia o di avere giochi troppo lunghi ma voglio una bella narrativa oppure a volte voglio solo giocare e non voglio rotture di scatole quindi questa cosa a seconda del mio mood serale scelgo la narrazione criptica di Miyazaki ci sono video su internet che lo dicono probabilmente lo sapete meglio di me gli è venuta un po' per caso ok e c'è tutto infatti vi invito ci sono delle retrospettive su Demon's Souls dove spiegano che lui da piccolo era in Giappone il padre lavorava all'estero gli portava questi libri game mi pare dove lui non capiva niente perché chiaramente era giapponese e allora siccome non capiva niente si doveva doveva un attimino connettere le poche informazioni che capiva e crearsi una sua storia ok stessa cosa succede nel primo Demon's Souls dove la narrativa viaggia attraverso la descrizione delle armi o delle armature che se vuoi mentalmente connetti e quindi ti fai tu tu giocatore finisci il gioco rivenci il punto del gioco che ti sei creato una lore nella tua testa anche se in realtà quella lore non esiste o non era esatto questo è un aspetto interessante che si vede anche in molti walking simulator penso Everybody's Gone to the Rapture dove c'è un racconto ma molto del racconto lo crei tu nel modo in cui osservi lo spazio e lo esplori questo è molto interessante a livello narrativo sì 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 esatto quindi sono due modi di creare una narrativa che a me personalmente piacciono poi questo tipo di narrativa per alcuni è uno semplicemente e per altri invece è apprezzabile Daniele e Andrea volete aggiungere qualcosa sì intanto è stato qualche giornalista lo dico da ex giornalista qualche giornalista a un certo punto ha inventato environmental storytelling e tutti hanno detto ah esiste questa cosa che prima non esiste esatto infatti nulla non è che magari è stata codificata a un certo punto con un termine ma esisteva già di fatto sì è stato è quello probabilmente riguardando i film tante volte la gente si accorta che guardando gli scenari dei film dietro c'era una serie di dettagli che aggiungevano dei pezzi di storia o comunque di informazioni su cosa stava succedendo su perché i certi personaggi facevano certe cose i videogiochi soprattutto nei mondi che si espandono tridimensionalmente permettono di esplorare gli scenari di gioco ben oltre quello che è la pura il critical path il percorso diciamo principale del gioco quindi se tu vuoi indungere ad andare a cercare dei dettagli puoi trovare delle informazioni pazzesche altri giochi sono più grossolani va benissimo però se tu in un gioco vedi che c'è una scia di sangue che porta dietro una porta ti sta proprio guidando ad andare a vedere perché non riesci a resistere la curiosità di morire malissimo subito dopo appunto pensando a Miyazaki però può essere anche molto più sottile Breath of the Wild che probabilmente è il mio vero videogioco preferito ma Breath of the Wild se tu vai a guardare certi dettagli dello scenario stai malissimo hanno chiaramente preso Miyazaki su quello entrambi però hanno proprio cercato di lavorare su quello ci sono dei dettagli in cui riesci a capire esattamente perché un personaggio si comporta in un certo modo perché dice ma lui in realtà qui c'è una sedia sdraio con un cannocchiale da cui vede Castello di Gano sono tutti questi ragionamenti qua che potresti completamente schipparli a me sta roba piace tantissimo e trovo sempre difficilissimo a farla proprio perché devi sincronizzarti appunto con tutti gli altri reparti perché state creando una storia insieme totalmente insieme e da narrativa cerco di andare a parlare con tutti e capire come fare Daniele puoi aggiungere qualcosa io penso che bisogna fare una distinzione proprio tipica dei videogiochi tra contenuti lineari e contenuti non lineari e devo dire che in generale tutto ciò che è scenografia pur apprezzandola non desta al mio interesse dipende molto dai soldi che hai e dalle capacità che hai anche se prendete Call of Duty qualunque che di solito è molto curato notate che ci sono delle parti più elaborate di altre per una serie di motivazioni che adesso non ci interessano mentre quando si tratta di contesti non lineari non ti salvi così facilmente perché il mondo deve essere sempre consistente voglio dire un conto è che tu passi per un punto una volta sola un conto è che ci puoi ripassare 5.000 volte se l'ambiente è curato in maniera non voglio dire approssimativa ma diciamo basica che è quello che succede spesso e volentieri allora quello che hai di fronte che ti trovi di fronte è un contesto che sa di fittizio a un certo punto se non subito che diventa molto simile ad uno stage teatrale quasi in travi di Le Quinte mi vengono in mente tantissimi esempi Kojima ancora ci gioca direttamente in Death Stranding quando crea le città che sono delle Quinte ma Kojima come ho detto non è inutile parlarne non arrivo non arrivo neanche io capito sono in imbarazzo però al di là di questo anche voi anche voi non capite nessuno capisce Kojima dicevo al di là di questo quando invece si tratta di un contesto non lineare bisogna fare un lavoro in più qual è questo lavoro in più e lo fanno in pochi e probabilmente Miyazaki lo fa fino a un certo punto che è quello di creare la sensazione dell'universo espanso e ci spenderò due parole velocissime il game design e qualsiasi cosa giri attorno al game design è essenzialmente al suo cuore psicologia del giocatore se uno sa dove vuole andare a lavorare se conosce o meglio se pensa di conoscere e prevedere in media la reazione emotiva del giocatore in quel contesto in quella situazione ed è possibile farlo attraverso una serie di strumenti allora in generale si tenta come dire di lavorare affinché quello che tu presenti per un motivo o per l'altro legato a storia frontale interazioni environment design e level design tutto ciò che c'è un design dietro può comunicare al giocatore l'idea che quello che sta guardando sia parte di un contesto molto più grande che poi non è il segreto di Pulcinella perché è quello su cui hanno elaborato prodotti che noi conosciamo tutti di estremo successo da guerre stellari a infanteria dello spazio di Highline e quant'altro in sostanza come faccio ed è questa la vera domanda a narrare al di là di quello che dico frontalmente al di là di quello che faccio con l'unico obiettivo di dare al giocatore la sensazione che il mondo sia più grande più articolato e pieno di promesse ecco se il narrative design ha uno scopo è quello di ingenerare nella mente dei giocatori autopromesse su ciò che potrà vivere in questa maniera il giocatore è continuamente stimolato ad andare avanti è continuamente stimolato a procedere ad incedere a spendere ore di sudore e sangue sui giochi di Miyazaki per vedere il risultato non tanto delle sue azioni quanto delle sue speranze se noi lavoriamo bene come designer a tutti i livelli alimentiamo speranze desideri e quanto altro che è quello che poi spinge i giocatori ad andare avanti raramente sono i numeri raramente grazie avrei altre domande ma devo tenere perché mi avete ispirato a tre domande però non posso anche perché voglio lasciare spazio a loro ci terrei quindi andiamo verso la parte conclusiva domanda che ho fatto negli altri panel quindi mi ripeto però mi interessa molto qualche racconto specifico di qualche vostra esperienza più o meno felice un aneddoto riguardo al vostro lavoro di narrative designer partiamo da Andrea lo vedo pensieroso sangue e sudore ma probabilmente non ho l'aneddoto divertente in questo momento cioè dovrei ma non ce l'ho comunque probabilmente la cosa più forte emozionalmente è stato confrontarsi con Nintendo cioè lavorare insieme a Nintendo Nintendo fa un lavoro di supervisione quindi il gioco è sviluppato assolutamente da noi Ubisoft tendenzialmente Milano Parigi poi un po' di studi in giro però comunque avere questa supervisione questo confronto con quelli che fino a un certo punto comunque guardi tipo gli dei e invece poi ti rendi conto che il vero piacere è il confronto l'iterazione capire i perché dei loro suggerimenti perché delle loro opinioni e lavorarci insieme questa è una cosa che secondo me è stata molto molto forte e ha secondo me aiutato tantissimo il team a maturare quindi questa cosa qua è stata un'ispirazione molto forte e poi in realtà è il lavoro quotidiano col team dall'altra parte cioè è quella la cosa che mi ha stupefatto cioè quando ci siamo trovati a lavorare il primo Mario Rabbids Kingdom Battle quando Sogliani è tratto dalla porta il direttore creativo e ha detto vabbè ragazzi dobbiamo fare il pitch per un gioco di Mario ecco quello sì è stato un momento effettivamente di Sosco e Piatrida bravo stavamo facendo Just Dance in quel momento quindi c'è comunque stato un salto importante con tutto l'amore per Just Dance però è detto sì bravo e invece era vero ecco forse questo è stato un momento di flash totale perché dice vabbè e poi era vero quindi questa cosa ogni tanto ancora mi sveglio di come è vero è vero con tutti i pesi del caso non è solo il fantastico sogno che è bello adesso si lavora Super Mario ma è anche l'onere di avere a che fare con Mario di avere a che fare con Mario e di in questi anni è stato crescerci vicino come studio questo è stato è stato bello e anche far crescere Rabbids quella è una cosa che a volte per noi sembra scontata ma portare avanti dei personaggi che partivano con un'intenzione slapstick molto definita con un target che narrativamente non dico che era un incubo però comunque era molto molto stretto no? cioè andavi là e facevi quel certo tipo di cosa e farli esplodere fino a farli parlare che è una delle caratteristiche del nuovo gioco beh quello è stata una soddisfazione basta Fabio? allora vabbè ci sono più episodi sono molteplici sul capo della narrativa allora beh ci tengo a dire che su Solstice credo l'ultimo gioco che abbiamo fatto che è anche il più grosso non c'era un narrative designer ok? anche perché il gioco è 99% combat è puro gameplay quindi e sul genere hack and slash normalmente la storia è una scusa è solo una scusa per farti combattere in effetti se pensate anche ai grossi titoloni del genere non hanno una storia molto convincente ok? però Solstice allo stesso tempo è più serioso non è fuori dalle righe non abbiamo un personaggio che mentre mangia un chewing gum spara testa in giù ok? quindi la parte della narrativa era importante ed è stata fatta sempre rispetto agli elementi di gameplay quindi io come creative ho seguito tutta la parte macroscopica della storia ovvero tutti i capitoli cosa deve succedere lato gameplay che nemici ci devono essere dentro e quindi ho cercato di vestire tutta la parte di gioco con la narrativa a un certo punto mi sono reso conto che non potevo farcela da solo perché a livello macroscopico avevo bisogno di definire cosa succedeva narrativamente ma non potevo andare nel dettaglio allora il mio collega che è lì Samuele doveva darmi una mano allo stesso tempo le reference che io uso non sono le cose che normalmente lui mastica perché abbiamo due gusti completamente diversi io sono completamente orientale lui è completamente occidentale quindi gli ho dato il pacco di cd berser claim gli ho detto adesso te li guardi tutti perché poi attenzione questa differenza è stata importante perché comunque ci siamo compensati ok però sì gli ho dato il pacco di cd ho detto vuoi farlo? sì devi guardare anche le robe che non ti piacciono perché le reference sono queste e lui non le ha visti proprio tutti però dai diciamo che ha visto e si è adattato anche su certe cose come io mi sono adattato al suo modo di scrivere e questo è un aneddoto tu Daniele sappiamo tutti che non possiamo raccontare gli aneddoti che vorremmo raccontare perché non sono quelli che si possono non è rating ah ok io direi questo anche per essere insomma per lasciare tempo a loro di fare domande noi io noi sviluppiamo giochi che hanno un alto contenuto narrativo alto abbiamo obiettivi molto alti di narrazione sia in complessità che in temi trattati in Rachel che è uscito dei suoi set di Rachel Foster che è uscito due anni fa trattavamo temi temetti diciamo il suicidio rapporto tra uomini molto grandi e ragazze minorenni ma non nello stato in cui si svolge la storia omicidi intrafamiliari incesti insomma c'era un po' di tutto dentro detta così sembra poco ma in realtà se giocate lo capite in salsa cubricchiana linciana insomma abbastanza pesante e il risultato a parte superare mezzo milione di copie vendute che è sicuramente un bel risultato dal punto di vista commerciale è stato anche un'enorme ondata emotiva figurate che abbiamo dovuto costruire con il pub c'era un sito apposta per i disclaiming il supporto alle persone che hanno turbamenti o pensieri turbati c'è un disclaimer importante all'inizio del gioco che dice non giocate da soli temi trattati sono questi attenzioni insomma c'è stata sicuramente un'attenzione particolare ma malgrado questo pur avendo ricevuto veramente un imbarazzante numero di mail dirette e indirette anche da vice president di Activision Blizzard persone che uno non immaginerebbe mai di complimenti per il prodotto per le emozioni la storia quello che era in alcuni casi abbiamo ricevuto anche delle critiche abbastanza feroci cioè ci sono delle persone che hanno per fortuna è un numero assolutamente esiguo però delle persone che sono proprio tanto tanto impegnate nel accusarci di cose molto pesanti molto pesanti molto molto pesanti cose che iniziano con la P e di solito sono belle ora ognuno si immaginerà cose incredibili e immaginatele perché sono orribili abbiamo vissute c'è addirittura chi ha fatto un video di un'ora su Youtube fatto da Dio peraltro in che dimostra spezzettando il gioco nelle parti che interessava a loro che gli autori erano dei pedofili ecco l'ho detto con la P che oltre a non essere obiettivamente vero forse la cosa più interessante è proprio vedere gli altri utenti reagire in modo in cui tu stesso non saresti capace ecco perché ho fatto tutto questo cappello molto palloso per dire che nel gioco nuovo che stiamo lavorando la protagonista manca di un braccio e ha tre fobie diverse per cui quello che succederà essendo malata di PTSD quello che succederà quando esce considerando che dall'altra parte il problema era uno e qua è moltiplicato chissà cosa sarà forse gli aneddoti arriveranno dopo ma quello che emerge comunque chi fa giochi ha anche una responsabilità in termini delle opere che propone perché ovviamente quando si affrontano certi temi ma è una parte anche interessante perché si racconta qualcosa lo si condivide con un pubblico e questo pubblico può recepirlo in un modo oppure in un altro modo interessante in questo aspetto non facciamo giochi necessariamente per intrattenere e basta crediamo che siano prodotti in grado di raccontare attraverso l'interazione attraverso una narrazione storie molto complesse di mettere i giocatori e gli utenti di fronte a tematiche molto molto complesse in maniera che il medium frontale non potrebbe mai fare e quindi spingeremo fino alla morte in questa direzione o fino a che non ci chiuderanno perché per accuse troppo gravi allora adesso sarebbe il momento delle domande ma io volevo farvi la domanda finale allora facciamo un gioco veloce io ho il cronometro qui avete 30 secondi a testa ma 30 perché ho il cronometro per dare un consiglio al pubblico su come diventare come prendere la vostra strada provate 30 secondi quindi sei pronto io metto play ok 30 secondi ciao giocate tanto giocate strano non giocate mainstream se potete o comunque giocate anche mainstream ma come ultima cosa cercate le robe veramente strane che vi confondano la testa e provate provate a costruire le vostre strutture narrative prima ancora che scritture narrative provate su twine qualsiasi cosa qualsiasi tool va bene provate a pensare sporcatevi le mani sporcatevi le mani così uno ecco bene 30 e 42 va bene c'è il centesimo adesso ria zero e partiamo con vado velocissimo visto che sei fatto fino adesso che narrative design è game design la cosa che vi posso consigliare tutti giocate per fare questo tipo di lavoro apritevi un engine studiatevi l'engine e incominciate a fare le cose da soli senza programmatori senza grafici provate a mettere in piedi qualcosa visto che le nuove tecnologie ve lo permettono noi quando valutiamo dei designer ad esempio la prima cosa che guardiamo più che altro è quello che hanno fatto non per forza per un'altra azienda pubblicata ma quello che hanno fatto anche a casa documentazione prototipi mi spiace mi spiace il consiglio finisce qui tagliato il consiglio comunque adesso potete fare le domande quindi se avete vi azzeriamo vado via avete presente il meme di Shia Leboeuf do it alla fine potrei anche finirla in sette secondi per me i designer devono essere persone radicalmente curiose a priori nella loro esistenza curiose di tutto di ogni cosa e poi studiate design scrivetevi ad un'università che fa design non fate necessariamente corsi di game design che potrebbero non essere sufficienti per darvi una formazione veramente veramente radicale che è quella che poi vi rende dei designer davvero preparati speciali perfetto allora tocca a voi abbiamo dieci minuti abbiamo un po' sforato perché avevamo dopo la pausa pranzo ma abbiamo dieci minuti se hai qualche domanda vedo già una mano alzata bello però usare il cronometro durante è tipo ciao io ho più una provocazione che una domanda perché parlando di narrativa c'è una cosa che nei videogiochi mi ha sempre dato fastidio ovvero il momento in cui si passa dal gameplay alla cutscene in cui magari nel gameplay sei dio sceso in terra e poi nella cutscene ti catturano e qui muovo una critica anche a Kojima perché succede che tu sei il migliore però poi uno ti punta una pistola alla testa nella cutscene e non puoi fare niente vi faccio un esempio velocissimo lo conoscete Xenoverse di Dragon Ball tu ti trasformi e in quel momento parte la cut diventi super saiyan secondo o terzo livello parte la cut quando finisce la cut come sei? regresso e magari ci hai messo mezz'ora per triggerare no è vero ci sono molti giochi anche noi lo facciamo spesso interrompiamo il gameplay per far entrare una cut eccetera a volte è narrativa a volte serve per darti il senso della potenza di un cambiamento normalmente una volta le cutscene non erano schippabili ti ricordi quando eravamo piccoli e io avevo i capelli le cutscene non potevi schippabili non hai mai avuti i capelli no ce li ho avuti e adesso normalmente sono tutte schippabili eccetera però sì se il gioco però tendenzialmente si vedono molti giochi che tendono a evitare di distaccare il giocatore dall'azione quindi se tipo un nemico un boss fa una cosa fighissima normalmente adesso te la fa davanti agli occhi e tu ti puoi muovere comunque però sì è vero è una bella domanda perché sarebbe bello arrivare o totalmente ad avere tutto davanti ma a quel punto forse il giocatore perché il giocatore non fa mai quello che il designer pensa che faccia probabilmente si gira dall'altra parte nel momento che tu hai speso mezzo milione di euro per fare una cosa fighissima davanti a lui e questo è un altro problema forse l'esempio che funziona meglio in assoluto è The Last of Us in questo senso che è un gioco che ha ancora una struttura arcaica e però la fa da Dio non sbaglia mai niente è molto in continuità anzitutto è in continuità e funziona molto molto bene poi Kojima non lo capisci non è lui che ha sbagliato scherzo ovviamente è pieno di errori di casini per carità però fare giochi è un macello Fabio secondo me stava alla fine riassumendo anche in questo non è esattamente facile quando hai 200.000 righe di dialoghi non previsualizzati e ti trovi a un certo punto magari avevi un'intenzione e te ne trovi proprio di fronte a un'altra anche se hai lottato in registrazione per fare la cosa più vicina possibile ti perdi ti perdi i propri pezzi dovrebbe essere diversa la produzione ma costerebbe tre volte tanto per cui ci sono proprio delle difficoltà oggettive anche che possono generare questi problemi però si torna a bomba vedi Shadow of the Colossus e il gioco perfetto perché non ti interrompe quasi mai sono le fazioni ormai è d'accordo bravissimo però su The Last of Us fatemi dire una cosa The Last of Us è molto arcaico l'idea di avere le lettere nei cassetti che ti raccontano la storia a me mi chiedono ma uno che è lì nell'apocalisse si mette a scrivere la lettera per raccontare la sua storia cioè mi ha sempre colpito questo aspetto che narrativamente mi sembra veramente vecchio come concetto però adesso non vorrei entrare no perché no non c'è il tempo però è anche quanto tu da giocatore accetti alcune regole meta su cui Kojima gioca fino a livello simile in cui praticamente quasi dici ah ok e mo c'è la cazzina e mi perdo tutti i poteri va bene va bene qualche altra domanda ciao cosa dovrebbe avere un junior narrative designer per essere potenzialmente affettibile per un'azienda quindi a livello di portfolio esperienze acquisite cose di questo tipo insomma grazie amica lo chiedono a me io lascio a voi guardavo il pubblico ero distratto io aspetto Andrea va bene innanzitutto se hai già fatto narrative designer quindi non sei junior ok non sei junior quello aiuta quindi se hai un gioco pubblicato sicuramente aiuta anche se fosse un gioco piccolo anche se è un gioco che hai fatto per conto tuo anche se è un test che nessuno ha mai visto nel mondo ma ce lo mostra dici ah quindi sì questa cosa di sporcarsi le mani è verissima cioè se mostri di avere la luccicanza come si dice di essere sveglio sull'aspetto tecnico quindi ho delle idee di un certo tipo che tanto poi qualcuno ti butterà via perché metterà le sue perché siamo cattivi però hai comunque la capacità di strutturarle se mostri di avere la furbizia nel modo in cui gestisci una struttura narrativa di già pensare a cose di game design a già pensare a ripercussioni che quel tipo di cosa ha su tutte le altre branche del gioco se mostri di avere una mente potenzialmente interconnessa al resto del team di design come dice Daniele quello è un grande vantaggio cioè molte volte ci sono arrivati dei curricula bellissimi a livello di scrittura ma non vedevamo questa questa lucidità poi scrivere tanto nel quando si si propone è rischioso più scrivi più è rischioso trovare il giusto giusto equilibrio perché se comincia ah no ha scritto questo così no ma non è solo di scrittura è proprio di struttura anche di come pensi vabbè basta bellissima mi fermo va bene aspetta aggiungere una cosa dipende molto da diversi fattori junior che non ha esperienza almeno per noi intanto è filtrato dal nostro coordinatore che è un americano per cui di solito guarda se scrivi in inglese o no noi scriviamo comunque in italiano sottolineo e poi traduciamo però la lingua è un aspetto molto importante molto importante perché la localizzazione per tantissime sfumature nei dialoghi e quant'altro e poi in generale guardiamo piuttosto con attenzione la formazione perché effettivamente alcune scuole di scrittura ad esempio se non stiamo parlando di designer alcune scuole di scrittura sono effettivamente buone per cui sappiamo che formano un certo tipo un certo tipo di professionista e dopodiché testiamo noi testiamo noi facciamo dei test facciamo anche diversi mesi di prova che non non si concludono necessariamente bene anzi spesso li facciamo proprio per selezionare perché è molto difficile capito a priori e non credo che nessuno di noi si metta a leggere 30 pagine di racconto che tu hai creato che saranno bellissime ma io non ho tempo per cui il filtraggio è importante è vero la cosa che dicevo prima per esempio nel caso di un narrative designer un narrative designer è un designer quindi è chiaro che se mi arriva un curriculum con un legato o un racconto anche di due pagine ok o mi arriva una demo stupidissima in Unreal o in Unity faccio un esempio anche con degli asset comprati trovati su internet che però mi fa vedere che tu hai inserito una narrativa all'interno di un mondo c'è anche soltanto la telecamera che va in giro e mi narri qualcosa facendomi vedere delle cose cioè vedo già che c'è la parte di racconto legato a un qualcosa che è più più tangibile che non è il world e se uno è portato e vuole fare questa cosa qua a parte i corsi che dice Andrea eccetera però vedo già da parte di chi si candida un approccio narrativo e un approccio di mettere le mani in un sistema di gioco ok senza creare niente da zero cioè da zero ci metti soltanto la testa ok e già è diverso da curriculum o solo il curriculum oppure qua ci sono tre pezzi di storie brevi ma non c'entrano col design noi spesso riceviamo dei curriculum di game designer che li mandano loro si sentono game designer perché giocano e dicono abbiamo tantissime idee ma le idee le erano tutti anche la signora delle pulizie ha delle idee ok dovete andare oltre non avete curriculum non avete fatto esperienza prima ok avete un'idea aprite un powerpoint e mettetelo in powerpoint avete il vostro miglior amico il vostro miglior artista che è google immagini ok che è perfetto per mettere in piedi un concept di gioco come si fa un concept di gioco ci sono mille mille esempi su internet cioè vivete in un momento storico per cui è molto facile andare a trovare delle reference su come si fanno le cose quando abbiamo iniziato noi a momenti non c'era neanche internet ok quindi questo ok tempo per un'ultimissima domanda veloce ultima ultima perché siamo già sì ciao a tutti io volevo chiedere invece all'interno di uno di uno studio grosso con molte persone come come si interfacciano nel lavoro tipo non so un quest designer che fa una quest estremamente specifica in un punto estremamente specifico come si va a interfacciare poi con quella che è tutta la costruzione che hanno fatto gli altri narrative designer quest designer lo scrittore è interessante questo noi effettivamente abbiamo dei quest designer come figura staccata sempre con il discorso che in altre situazioni potrebbero essere ibride eccetera o top down o bottom up nel senso che dipende ci sono dei casi in cui quest designer ha una struttura astratta molto forte che funziona molto dal punto di vista del puro gameplay e in quel caso magari noi andiamo incontro dal punto di vista narrativo e cerchiamo di far inquadrare iterando modificando alcuni aspetti se funziona dal punto di vista ludico puro dice va bene perché andare a impazzire altre volte noi invece abbiamo lato narrativo anche lato con scrittura col direttore creativo delle intuizioni molto forti e diciamo no guarda tu devi cercare di fare una quest che parte da questi snodi narrativi fondamentali succedono cose terribili tipo i concept artist hanno un personaggio fighissimo che non c'entra niente fino a quel punto con la storia però è talmente bello che qualcuno vuole che ci sia dentro e allora tutti quanti fanno i salti mortali questo designer per cercare di fittarlo scusate il narrativo di fittarlo nella storia tutte le combinazioni sono possibili è una mia esperienza recentissima direi che a questo punto chiudiamo e vi ringrazio molto perché è stato molto interessante avrei voluto tenervi qui un'altra ora ma non si può quindi grazie ancora ai nostri ospiti direi che un applauso è il minimo grazie 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 Grazie.